Quanto è bello vedere il campionato del mondo insieme agli amici. Noi dello Sporting abbiamo deciso di vedere i mondiali così. Ombra, acqua fresca, piscina, tennis, calcio, tutta la giornata. Pensate, voi soci potete venire con i vostri amici. Prenotate perché sarà bellissimo. Vi raccomando, i 14 sere a mezzanotte allo Sporting, grande spaghettata, un grande maxischermo. Con gli amici potete discutere e tifare. Io sono già qua seduto che aspetta. Grazie.